Canicattini, emergenza coronavirus, tre ordinanze del sindaco per attivare il COC. Tre i provvedimenti assunti giovedì 12 marzo dal sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, attraverso proprie e distinte ordinanze, a seguito delle ultime misure urgenti decise dal governo su tutto il territorio nazionale con il decreto dell'11 marzo per contenere la diffusione del contagio del Covid-19. La prima ordinanza ha riguardato l'attivazione del centro operativo comunale con il responsabile del dirigente dell'ufficio di protezione civile e il comandante della Polizia Municipale Giuseppe Casella, in modo da ottimizzare il coordinamento tra i vari soggetti operativi coinvolti e la circolarità delle informazioni. Il numero telefonico per avere informazioni dal centro dalle 8.30 alle 19.30 di tutti i giorni è lo 0931 945131 della Polizia Municipale, mentre per le emergenze si può chiamare il numero 334-3475-475. Con l'apertura del centro sono attivate le seguenti funzioni. Funzione 2-9, Sanità e assistenza sociale, assistenza alla popolazione, referente dottoressa Adriana Greco. Funzione 3-7, volontariato, strutture operative locali, referente, ispettore capo Salvatore Aiello. Funzione 4-5, materiale e mezze, servizi essenziali, referente, geometra Giuseppe Carpinteri. Individuati i quali il referente responsabile è la dottoressa Marilena Miceli, sindaco, responsabile del centro operativo comunale. Il signor Pietro Savarino, vice sindaco, vice responsabile del centro operativo comunale. E poi il dottor Giuseppe Casella, coordinatore del centro per attuare le direttive del sindaco. La segretaria è di Patrizia Carpino, addetto stampo e comunicazione Gaetano Gozzardo. La seconda ordinanza è riguardata la chiusura del cimitero comunale da venerdì 13 marzo per motivi precauzionali derivanti dall'emergenza coronavirus. L'apertura potrà avvenire solo per il tempo necessario per raccogliere eventuali salme con la successiva tumulazione. Ogni altra attività all'interno del cimitero comunale è sospesa, comprese le esecuzioni di autorizzazione già rilasciate dal comune. Il responsabile del terzo settore tecnico potrà autorizzare solo le tumulazioni dei defunti il cui decesso è successivo alla data dell'ordinanza. Il responsabile del terzo settore tecnico porrà in congedo ordinario i dipendenti comunali che potranno essere chiamati in servizio solo per motivi straordinari. Infine, che in caso di funerali le imprese esecutrici dei servizi funerbi sono obbligate a indossare i dispositivi di sicurezza e i familiari dei defunti dovranno partecipare limitatamente senza creare gruppo affollamento. Con ulteriore ordinanza, il sindaco Marilena Miceli ha disposto in ottemperanza con quanto previsto dalle misure emanate dal governo l'individuazione e il mantenimento dei servizi minimi essenziali del comune, dando disposizione ai dirigenti del settore di collocare in ferie dipendenti non addette servizi essenziali che non abbiano ancora fruito delle ferie degli anni precedenti o di eventuali ore di lavoro in eccedenza. Sono servizi minimi essenziali, servizio dello Stato civile, limitatamente al raccoglimento delle dichiarazioni di nascita e alle denunce di morte, alle richieste di autorizzazione dei trasporti funerbili, all'autorizzazione a cremazione e sopoltura, certificazione di documentato urgenza e necessità. Il servizio anagrafe è limitatamente al rilascio di carte di identità, certificazione e autenticazione di documentato urgenza e necessità, servizio del personale, servizi cimiteriali, limitatamente al trasporto, ricevimento e innovazione delle salme, servizio attenente alla rete stradale, idriche, fognarie e di depurazione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, servizio di Polizia Municipale e di Protezione Civile, con particolare riguardo al centro operativo comunale. Attività assistenziali, igiene e sanità, centralino, economato, protocollo, limitatamente all'acquisizione delle PEC, sportello informazioni, rentamento per l'utenza e acquisizione istanze cartacee da protocollare. L'accesso agli uffici deve essere considerato eccezionale e limitato a tutte le pratiche che non possono essere rimandate, deve essere preceduto da appuntamento che si può fissare per telefono o per e-mail. Infine, da venerdì 13 marzo, come da ordinanza numero 4, sarà effettuato il servizio di sanificazione e disinfestazione di tutti gli edifici pubblici comunali, destinate ad uffici, scuole, asilo, nido, servizi pubblici e di pubblica utilità. Come sta già avvenendo in questi giorni, il sindaco Micieli continua a rinnovare la raccomandazione ai cittadini a rispettare rigorosamente le misure dettate dal governo, in particolare a restare a casa e a spostarsi solo per necessità, ovvero lavoro, motivi di salute e per fare la spesa, sapendo che supermercati e negozi alimentari, così come farmacie e parafarmacie, sono aperti e riforniti e seguire solo le comunicazioni e le informazioni che arrivano da fonti istituzionali.